Lo ami veramente? In chiesa sarà più facile raggiungere gli spiriti. Se lui ti ama, tornerà da te. Quando l'amore è un'ossessione. Accendo queste candele. La prima candela è vostra, una seconda è mia. Fermati! Ci sarà un modo per sistemare tutto. A certi errori si rimedia solo con la morte. In prima visione. Dark Spell, il maleficio. Giovedì alle 21.20, Rai 4. La guardi, la vivi.